eccoci qui ragazzi buongiorno a tutti voi come da prassi il giorno dopo si fanno le pagelle della partita e sono veramente in difficoltà perché in queste ultime due domeniche fare le pagelle è diventato veramente uno stilicidio in mane visto le prestazioni indecorose che la squadra sta facendo in queste ultime partite rimango allibito nel vedere certe certe cose in campo sinceramente ho paura che questa squadra sia veramente scoppiata dal punto di vista mentale dal punto di vista fisico e dal punto di vista dello spogliatoio come ho detto ieri io non so se alcuni giocatori stanno rimando contro l'allenatore se questo allenatore non riesce più a tenere il gruppo unito è sempre il solito discorso insomma miglioreranno le cose non lo so non lo so qualche cosa di positivo poi alla fine ieri c'è stato nel senso ho visto un carlos perez che è entrato bene in partita però ragazzi partiamo con ste pagelle perché oggi la depressione totale perché mi sono stufato anche dei fast focchi e compagnia bella perché manco quello se meritano questi allora paolo pez paolo pez le vagine saranno tutte al ribasso perché è anche l'atteggiamento e le particolari che portano il voto da adesso in poi è vero che paolo pez non ha avuto praticamente colpe sui gol subiti perché i gol sono stati talmente occasioni particolari che non posso da colpa al portiere però gli do 5 lo stesso per il semplice fatto che questo portiere è stato preso perché era bravo con i piedi si diceva e ultimamente neanche con quelli sta sta facendo cose diciamo normali che si aspettano da lui i rinvi tutti sbagliati e compagnia bella per cui adesso non ho più pietà per nessuno e quindi gli do 5 santon voto 4 allora santone lo conosciamo tutti i ragazzi che è un giocatore mediocre non è che lo scopro io fa una partita o due all'anno dopodiché torna nella sua mediocrità la partita dell'anno l'ha fatta con la lazio adesso è tornato nella sua mediocrità quindi non ci si può aspettare chissà che da da santon visto che poi tutte le azioni pericolose i gol del del bologna sono arrivate dalla parte sua quindi di cosa dobbiamo parlare entra bruno peres e bruno peres io gli do sei perché comunque entrato molto più in partita di santon ha avuto il merito di fare quel cross preciso che ha portato al 3 a 2 ha fatto il suo e non ha demeritato mancini voto 3 alla mancini sono due tre partite che ci fa prende gol cosa solo ce n'ha fatti via 2 ieri che non ha fatti prende altri due si è fatto saltare come un birillo inerme da barro non da messi per cui veramente delle prestazioni indecenti di mancini non so per quale motivo sia ci sta abituando a queste scarsità di rendimento questa è la realtà small league voto 4 mi dispiace dare addosso anche a small league è l'unico che se salva in questa stagione almeno dal punto di vista difensivo però sono due partite che anche lui è andato completamente in bambola ieri sul primo gol circa l'intervento e manda in vantaggio la spalla si la spalla scusate è il bologna colarov voto 4 un'involuzione veramente veramente preoccupante di questo giocatore che non è sceso in campo ieri assolutamente non spinge più dietro non copre più anche se dietro si sa che non è un grandissimo giocatore ieri mi ha dato proprio fastidio l'indisponenza di questo giocatore che sembrava veramente che ti facesse un favore a giocare allora se non vuoi giocare te ne stai in panchina dice allenatore che non te la senti che non vuoi che non sei in grado di dare quello che devi dare e te ne stai in panchina avere tu voto 5 diciamo che uno di meno peggio perché comunque uno che ha sempre corso sempre corso cerca di impegnarsi cerca di tamponare centrocampo perché praticamente gioca da solo dopo che diavara si è infortunato è poco lucido sbaglia tanti palloni viene sostituito in maniera spiegabile da fonseca però è insufficiente al suo posto kalinic 4 perché in 20 minuti ne ha strusciato una palla un giocatore totalmente inutile di cui non voglio neanche parlare cristante voto 4 a me dispiace da sempre addosso a sto ragazzo è pur vero che viene veniva da un lungo infortunio e probabilmente ancora non ha i minuti nelle gambe a livello fisico perché deve giocare per forza per gli infortuni è vero che non gioca in un ruolo che non è il suo perché lui è un incursore che gioca dalla tre quarti in su e mediano non lo può fare ma allora io dico no se non lo vuoi fare il mediano glielo dice allenatore non è il mio ruolo fonseca non riesco a giocare lì non posso dal massimo non do il mio contributo quindi o gioco un'altra parte non gioco perché altrimenti giochiamo in dieci tutte le domeniche se poi ti fai anche spellere nel momento più importante della partita poi la gente le dà addosso ma non te poi lamenta però ti voto 5 cerca qualche accelerazione cerca qualche di saltare l'uomo da arrivare sul fondo di fa qualcosa ma è sempre molto discontinuo nella sua azione azioni istemporanee una volta gli riesce 59 giocatore che sappiamo che è sul viale del tramonto almeno qua a roma e anche ieri non ha dato il suo contributo bichita riano voto 5 rientrava dal titolare dopo tanto tempo ha cercato di dare il suo contributo ha fatto il go del 3 a 2 però anche lui molto fumo e poco arrosto molto inconcludente che dobbiamo fare questi sono i giocatori che ci abbiamo poi andiamo avanti under voto 4 veramente nullo ieri veramente una prestazione indecente veramente indisponente allora se vuoi andare via da roma basta che lo dici e uno non ti fa giocare io l'ho sempre detto giocatori che non vogliono stare qui devono andare via al più presto perché altrimenti è inutile giocare con giocatori senza motivazione e senza voglia di scendere in campo seco voto 6 a lui do il 6 perché lì davanti è l'unico che c'è prova l'unico che dà tutto l'unico che cerca le prende la palla di torna indietro a prenderla di cercate di fa qualcosa ma predica veramente nel buio è l'unico veramente che dà qualcosina però non basta ragazzi anche lui poi certe volte sottoporta non è concreto sbaglia tanti palloni pure lui però almeno lui l'impegno ce lo mette ecco perché io lo sei perché lui l'impegno ce lo mette gli altri l'impegno non ce lo mettono e questo che mi dà enormemente fastidio a fonseca gli do ho quattro perché anche lui ha rotto le palle perché a parte gli è sfuggito lo spoglio d'olio di mano ed è una cosa chiara spinazzola non si sa perché non gioca che è il terzino più forte che ci abbiamo se no il terzino uno dei più forti d'italia e non gioca mai giochiamo con santone bruno peres e cola dopo che sono guardabili ieri sbaglia tutti i cambi perché non mi puoi elevare veredù che è l'unico che corre in mezzo al campo per lasciarmi il ristante che è l'unico che non corre in mezzo al campo per mettere quell'altro morto De Galinic che dobbiamo fare ragazzi questa è la situazione non so che altro dirvi non so come commentare questa nuova prestazione indecente della Roma ho già detto abbastanza nei video di ieri queste sono le pagelle fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like e vediamo insomma come va il resto della giornata di campionato grazie a tutti